Enisan Green Power a casa dei clienti, a casa di coloro che da prima hanno chiamato, poi hanno valutato e infine acquistato uno di questi sistemi completi per il riscaldamento e l'acqua calda. Come potete vedere alle mie spalle siamo nella splendida zona del Roero, più precisamente a casa della famiglia Rino, che adesso andiamo a incontrare per sentire direttamente dalla loro voce come sta andando questa esperienza con Enisan Green Power. Ed ecco che incontriamo i signori Giuseppe e Carmela, non comparse perché alle spalle hanno effettivamente acquistato il sistema Enisan Green Power. Testimonianze verità, gente che realmente sta provando i benefici, lo chiederemo a loro, del sistema. Questa casa come si suol dire girava a GPL, il riscaldamento era a GPL, molto molto caro e voi effettivamente lo sapete. Chiediamo però a loro l'esperienza con Enisan Green Power, come sta andando? Ma a me va bene, va bene perché io ho visto la pubblicità per televisione, ho telefonato e sono venuti immediatamente e ho fatto installare il pannello, sia l'impianto di riscaldamento. Prima avevo il GPL e pagavo un sacco di soldi, adesso risparmio quasi l'80% e mi trovo benissimo. Quindi il grado di soddisfazione è molto alto. Signora Carmela, lei mi diceva che questa casa è molto grande, era molto grande e costava parecchio il riscaldamento. È molto grande, non mi potevo permettere un riscaldamento con il GPL perché non è che è una stanza sola, è un piano, sono tre. Ho trovato veramente la soluzione, anzi direi che pure è fin troppo caldo. Sono contentissima. Signor Giuseppe, lei mi diceva che adesso lo consiglia anche agli amici e alle persone. Sì, lo consiglio a tutti perché è buono come impianto, come sistema di riscaldamento. Io l'ho consigliato a tutti, anche ai miei colleghi, a tutti. E poi c'è la serietà della ditta, che sono gente veramente diciamo speciali. Mi è piaciuto tanto e mi sono trovato benissimo. Perfetto, testimonianze verità, adesso andiamo a incontrare altre persone che hanno già acquistato un sistema Enisan Green Power. Enisan Green Power a casa dei clienti. Ci troviamo nella laboriosa Novara dove stiamo per incontrare il signor Natali. Una simpatica persona che ha già acquistato un sistema per il riscaldamento e l'acqua calda. Allora andiamo a sentire direttamente dalla sua voce come sta andando questa esperienza. Ed ecco il signor Valerio che incontriamo. Ben trovato. Buongiorno. Signor Valerio, ma intanto lei, diciamolo, è un cliente reale, vero, effettivo di Enisan Green Power. Sì, guardi, io con la moglie cubana, che ha sempre freddo, spendevo un sacco di soldi. Allora all'inizio del 2016 mi sono deciso a provare un impianto che poi tutti quanti i miei familiari che erano scettici si sono convertiti e hanno messo anche loro un impianto. Quindi ho vari impianti da farvi vedere. Perfetto, allora direi, signor Valerio, sei d'accordo? Andiamo subito a vederlo. L'accompagno, prego. Riconosco il pannello Enisan Green Power, signor Natali. Sì, eccoci al lavoro di mio padre che ha fatto integrazione al riscaldamento e come me un serbatoio praticamente per l'integrazione dell'acqua calda dove nell'arco solare di un anno, tra tutti quanti abbiamo fatto proprio bene i conti, abbiamo avuto un risparmio dell'80-90%. Se poi si aggiunge l'integrazione, come in questo caso, si può arrivare a risparmiare fino al 60-70% rispetto alle bollette precedenti. I parenti un po' hanno acquistato, anche se il suo consiglio, immagino anche amici, conoscenti. Guardi, in effetti adesso è già la terza o la quarta persona che fa il lavoro e io sono rimasto, diciamo, con tutti a una scommessa che si risparmiava più del 50%. Fino adesso le ho vinte tutte. Sono tutte pizze che mi sto mangiando, si vede anche dove le vado a mettere. Grazie.